Ciao a tutti, devo dire che mi dispiace veramente tanto per Valentino Rossi perché questa gara era un'opportunità per accorciare le distanze sugli altri piloti ecco che lo precedevano, però purtroppo c'è stata questa uscita di pista Nagagami ha avuto anche da peggio, peccato, peccato perché avrebbe meritato certamente ulteriore sorte, certo non può vincere il mondiale perché ormai Marquez lo ha ipotecato secondo me ma sicuramente può puntare al podio e da questo punto di vista questa battuta di arresto di oggi non ci voleva proprio sinceramente però Rossi è un fuori classe, è un campione, sono sicuro che saprà ripartire meglio di prima perché i campioni possono cadere ma sicuramente non gettano mai la spugna quindi ho grande fiducia